Un incendio divampato oggi, mercoledì 15 novembre, intorno a mezzogiorno, in un cascinale situato in via Canonico Maffè e San Maurizio Canavese. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di uno degli alloggi del cascinale. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili fuochi San Maurizio Canavese e Torino. In quel momento nell'alloggio non c'era nessuno, quindi non sono stati fortunatamente registrati feriti o intossicati. I vigili del fuoco hanno domato, circoscritto, spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione.